ciao amici bentornati sull'arte del fatto umano io sono rita e l'arte nel fatto umano un canale di tutorial uncinetto per chi volesse iscriversi al canale basta cliccare su iscriviti e attivare la campanella su tutte per ricevere le notifiche delle pubblicazioni future quando io pubblicherò vi arriverà un piccolo avviso e potete andare a visionare i nuovi tutorial bene il progettino di oggi è un progettino che avevo già annunciato tempo fa poi ho avuto il matrimonio di mia figlia ha avuto dei giorni un po intensi sono un po in ritardo con la registrazione infatti vi chiedo di perdonarmi per questo per questo mio ritardo e appunto si tratta di un progettino molto semplice anche veloce da realizzare ma che veramente da un grande effetto è il top allure il progetto di oggi che per chi volesse può abbinare alla sua stola allure che già presente sul mio canale vi metterò il link della stola sotto al tutorial del top e viceversa che metterò il link che vi manda al tutorial del top sotto appunto alla stola così per darvi più facilità nel trovare tutorial perché comunque cominciano a essere tanti sono più di 100 e quindi insomma a volte sia si fa fatica proprio a rintracciare i vari combinazioni di progetti allora come ho usato nella stola oggi vi propongo ancora naturalmente lo stesso filato perché è un completo io in casa ho questi bellissimi colori innanzitutto vi vado a spiegare con che filati sto lavorando in questi ultimi progetti sono infilati di che potete trovare potete acquistare sul sito online un filo di passione un filo di passione punto it vedete questo è un fogliettino che ho trovato e troverete tutti all'interno del vostro ordine che vi ringrazia per il vostro acquisto e per la vostra fiducia è un sito molto fornito di filati quasi esclusivamente italiani di marche sono famose e ha anche dei buon prezzi quindi sotto nelle info sotto il video vi metterò anche il link che vi manda al sito online e anche al filato da me utilizzato per chi fosse interessato dunque il filato quindi protagonista come la sua stola è sempre il canada zucchero lux della mistrico filati che è un filato composto gli andiamo nei dettagli nel solo 97 per cento di scosa da canna da zucchero e un 3 per cento di lì essere metallizzato per chi non ama non è amante dell'urex c'è anche la versione senza lux quindi canna da zucchero semplice sono 50 grammi questi bei gomitolini 145 metri quindi c'è anche un'ottima resa che consiglia 34 nella stola usato un 4 nel nel top andrò utilizzare un 3 mezzo perché così il punto non risulta troppo traforato se non tolto mentre nella stola avevo bisogno di fare un punto molto larioso molto molto traforato per punto dare risalto al look su cui si vuole indossare quindi il tre e mezzo ora vi vado un po a spiegare questi colori che ho in casa andremo fare io dunque il top e la stola l'ho fatta con il color del color sabbia questo è il color sabbia che è il numero 2 ma oggi campioncino andremo farlo con un altro colore così potete anche vedere che questi filati ogni che color si va ad acquistare hanno veramente un ottimo risultato cromatico allora qui abbiamo andiamo a vederli uno per uno adesso le andiamo a spostare i colori qui abbiamo un beige vedete che il fosse interessato il numero 11 con cui ho fatto il tutorial cioè nel senso proprio il campione della stola questo quindi beige sono tutti colori molto delicati qui abbiamo un grigio grigio perla che il numero 6 scritto un po piccolino poi abbiamo un meraviglioso tifani che però nella mia videocamera si vede turchese ma è un tifani meraviglioso che è un 42 numero 42 stesse caratteristiche stesso filato quindi abbiamo il sabbia che appunto utilizzato nelle nel progetto finito quello della foto che è un numero 2 abbiamo il bianco che penso di fare il tutorial con il bianco perché risalta molto quel top in bianco che in una probabilmente uno e poi c'è un bellissimo rosa cosa molto intenso molto bello che è il numero 43 sul sito troverete tantissimi altri colori a disposizione io avevo questi vi faccio vedere questi qua in più volevo dirvi che lux è molto discreto non è un lux pacchiano è molto delicato e quindi molto molto elegante per il top io ho usato però quello di natale di mia figlia sapete che è una taglia piuttosto piccola ho utilizzato 100 dunque sì un netto e mezzo di filato 150 grandi stamattina avrà intenzione di fare un tutorial un po diverso nel senso che vorrei farvi vedere come sviluppare la taglia dato che è un punto molto semplice molto semplicissimo è molto veloce e anche adattabile alla taglia vorrei appunto partire dal campione senza prendere delle misure su un capo finito quindi noi andremo a fare un campione su un numero un multiplo piccolo sono una bimba una bambola quindi un multiplo ridotto di maglie svilupperemo il motivo e poi vi farò vedere a sviluppare comunque tutto il top su una misura ridotta e sul sui primi giri del punto traforato voi facendo appunto questo campione vi regolerete per la taglia quindi andremo a fare qualche giro poi voi andrete a misurare poi andrete a misurare questo campioncino naturalmente dovete poi disfare ma sarà proprio una questione di pochi giri e su questo campione sviluppo rete la vostra taglia quindi andrete a misurare un motivo e lo svilupperete sulla vostra taglia è il top che non c'è problemi poi sono i motivi pari anche di sperio vi consiglio sempre di fare pari perché è più facile poi anche poi andiamo a mettere gli spallini però non ci non ci dovrebbero essere difficoltà neanche sono sul display quindi adesso andremo a fare il campione servirà quindi il mio metro da salta io sto usando punto il tre e mezzo poi dipende dalla vostra mano regolatevi voi il marca punti mi serviranno solamente per identificare la misura dell'attaccatura degli spallini davanti e dietro e la mia forbice quindi non ci sono cuciture lo spallino va attaccato direttamente con l'uncinetto sia davanti che dietro e quindi insomma è un progettino facile e veloce sbizzarrite vini colori fatelo anche con un filato se volete sfumato perché essendo una lavorazione che risulta appunto a motivi che si ripetono ma sembra si può fare anche a righe fatto in tantissimi colori perché vedete che vi darà grande soddisfazione bene cominciamo il nostro penso di aver detto tutto cominciamo il nostro tutto allora il nostro motivo traforato è un multiplo di otto quindi dovete calcolare 8 e ripeterlo 8 8 8 8 8 sommare 8 a 8 fino a che raggiungete la dimensione che vi servirà per fare il campione che vi servirà appunto per portare poi a taglia del vostro top io ho deciso di fare ma adesso vedremo o sei motivi quindi sei per 8 48 o 8 motivi 8 pronto 64 adesso comincio fare la mia catenella e vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 ecco loro io ho fatto il multiplo di otto ma su otto motivi quindi 8 per 8 64 ora prendiamo vedete 8 catenelle 64 catenelle prendiamo la nostra catenella la teniamo bella dritta tra le dita altrimenti si arrotola e andiamo chiudere appunto come fosse un centrino cerchio questa catenella e andiamo a lavorare appunto in tondo quindi tutto sul diritto questo top e intondo quindi il motivo risulta migliore naturalmente allora cosa che vi devo dire se uno ha già fatto la stola o ha guardato il tutore mentre nella storia siamo andati a lavorare in giri e andata ritorno sui motivi paralleli ora andiamo invece ad inserire i motivi in maniera a zig zag come dico io quindi guardate bene come appunto lavoro questi giri perché in inizio la fine cambia naturalmente prima di tutto perché in tondo non è in andati ritorno però anche perché ho inserito ho deciso di inserire i motivi a zig zag allora facciamo il primo giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una catenella di separazione carico il filo rientro nello stesso punto dove abbiamo chiuso il giro e faccio una maglia alta e questo è un punto v poi faccio una catenella di separazione carico il filo salto 3 maglie di base quindi una due tre vado nella quarta e faccio il punto v quindi faccio una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base di nuovo una catenella di separazione carico il filo salto 3 maglie di base 1 2 3 e la quarta una maglia alta nello stesso punto di base di nuovo lo faccio rivedere una catenella carico il filo salto 3 maglie di base nella quarta vado a fare il punto quindi una maglia alta una catenella e una maglia alta ecco questo è il primo giro che stiamo lavorando lo dovete lavorare uguale per tutta la circonferenza ecco siamo alla fine del giro faccio la catenella e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa vedete nella una due nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta del giro secondo giro entriamo all'interno del primo punto v e facciamo una maglia direttamente una maglia bassa da qui andiamo a fare 5 catenelle 2 3 4 e 5 saltiamo la catenella dell'archetto andiamo nel punto v e facciamo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 di nuovo saltiamo la catenella l'archetto andiamo nel punto v questa la saltiamo andiamo nel punto v seguente e facciamo una maglia bassa giro tutto così e facciamo 5 catenelle faccio rivedere 4 5 salto l'archetto vado nel punto v e faccio la maglia bassa questo è il secondo giro lavorate tutto così fino alla fine ecco siamo alla fine del giro per chiuderlo andiamo fare due ma due catenelle carico il filo entro nella prima maglia bassa del giro e chiudo con la maglia perché dobbiamo andare a lavorare nel centro delle archetti allora da qui ci alziamo iniziamo il giro il terzo e ci alziamo con una due tre catenelle che sostituiscono una maglia alta carico il filo vede vi faccio vedere dove vado entrare dove c'è qua la maglia alta la chiusura della maglia alta che ha chiuso il giro secondo giro vedete vado a fare altre due maglie alte una e due quindi 3 maglie alte complessive 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado nell'arco successivo avevamo 5 catenelle entro nella terza che vado fare nella terza catenella una maglia bassa 3 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto di base e faccio tipo un pipiolino nella terza catenella della 2 catenelle di separazione e di nuovo ripeto carico il filo varto nell'arco successivo nella terza catenella entro e faccio una maglia alta carico il filo un'altra maglia alta la seconda nello stesso punto di base carico il filo la terza maglia alta nello stesso punto di base 2 catenelle di separazione un po di filo vado nell'arco successivo nella terza catenella vado a fare il pipiolino quindi una maglia bassa 3 catenelle 1 2 e 3 e una maglia bassa nello stesso punto di base 2 catenelle di separazione ora tocca le 3 maglie alte quindi carico il filo vado nella terza catenella nell'arco successivo e così via faccio le 3 maglie alte nello stesso punto di base quindi questo giro vado ad alternare questi due motivi su un arco 3 maglie alte su un arco 3 maglie alte su un arco un pipiolino così via fino alla fine del giro però vedete divisi da due catenelle sempre da due catenelle lavorate così fino alla fine del nostro giro ecco sono alla fine del giro faccio le ultime due catenelle mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro proseguiamo con il giro seguente mi alzo con una due tre catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro più una catenella di separazione carico il filo rivato vedete qui avevamo tre maglie alte nel ventagliettino vado nella seconda e faccio una maglia alta una catenella di separazione carico il filo rientro nella seconda e faccio un'altra maglia alta una catenella di separazione carico il filo vado nell'ultima nella terza del di questo gruppetto e faccio una maglia alta quindi due maglie alte in quella centrale e una maglia alta nelle due laterali divise tutte da una catenella una catenella di separazione carico il filo sorpasso tutto questo lavoro dove c'è il pipiolino vado a lavorare sulle tre maglie alte seguenti faccio la stessa cosa quindi nella prima faccio una maglia alta una catenella di separazione nella seconda faccio una maglia alta una catenella e una maglia alta nella stessa punto di base quindi un punto v una catenella di separazione un attimo e una maglia alta sull'ultima maglia lo faccio dire un'altra volta quindi di nuovo una catenella carico il filo sorpasso il pipiolino vado sul gruppetto di tre maglie alte nella prima lavoro una maglia alta una catenella di separazione nella seconda lavoro un punto v quindi una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso punto di base una catenella di separazione una maglia alta nella terza maglia alta sottostante quindi di nuovo una catenella sorpasso il mio pipiolino così via fino alla fine di questo giro ecco siamo alla fine del giro facciamone l'ultima catenella e mi vado a chiudere vedete nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro mi chiudo con la mia mezza solita mezza maglia bassa allora a questo punto possiamo andare a misurare il nostro campione e adattarlo alla vostra taglia quindi qui avevamo 8 x 8 64 8 motivi andiamo a misurare il totale e anche un motivo allora il mio totale 15 14 e mezzo quindi 29 oppure se volete calcolarla con il motivo il motivo va da questo piccolino quindi dovete calcolarlo da un piccolino a prima del piccolino seguente quindi da qui a qui mi da quattro centimetri e mezzo nel mio caso perché non è detto che voi avete la stessa mano e la stessa misura quindi questo quattro centimetri o cinque quello che vi darà il motivo lo andate a moltiplicare fino a che raggiungerete la circonferenza maggiore se volete tenerlo in vita tenete la misura del seno se volete invece farlo più lungo sul fianco un vestitino quello che volete perché si può fare anche un vestitino bellissimo vestitino tenete la misura più grande del vostro corpo ecco quindi per l'adattamento della taglia veramente molto semplice io adesso proseguo a farvi vedere la lavorazione naturalmente del punto traforato seguiamo col prossimo giro allora qui abbiamo vedete questo un taglio con 1 2 e 3 spazi entriamo nel primo spazio e ci spostiamo con una mezza maglia bassa da qui ci alziamo con due catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà carico il filo rientro nello spazio che io do metà vedete la seconda maglia alta e poi chiudo tutto insieme una catenella di separazione carico il filo vado nello spazio centrale e faccio due maglie alte chiusi insieme quindi chiudo metà la prima carico il filo chiudo a metà la seconda e chiudo tutto insieme una catenella di separazione carico il filo nello spazio centrale vado fare un altro petalino quindi due maglie alte chiusi insieme chiedo metà a ricco il filo che non metà la seconda e chiudo tutto insieme una catenella di separazione carico il filo vado nello terzo spazio faccio due maglie alte chiusi insieme una metà seconda metà e chiudo quindi nello primo spazio un petalo nel secondo spazio due petali nel terzo spazio un petalo da qui cosa faccio vado vedete qua dove c'era la catenella che sorpassava il pipiolino entro e faccio una maglia bassa e da qui riparto direttamente caricando il filo su lavorando i petalini sull'altro ventaglio qui dentro nel primo spazio lo faccio vedere un'altra volta ma gli alta chiuso metà corico il filo entro nello primo spazio ma gli alta chiuso metà chiudo tutto insieme una catenella di separazione carico il filo vado nel secondo spazio e faccio le due maglie alte chiusi insieme una catenella di separazione carico il filo rientro nel secondo spazio secondo petalo due maglie alte chiusi insieme una catenella carico il filo entro nel terzo spazio due maglie alte chiusi insieme ecco qua da qui vado nella catenella vedete quella che sono passato il pipioli faccio la maglia bassa e così via e ricomincio lavorando il primo petalo nel primo spazio del ventaglio seguente e così lavorate tutto il giro ecco siamo alla fine del giro vedete per chiudere il giro qui devo fare vedete la maglia bassa sulla catenella che sorpassava il pipiolino cosa faccio esco con un gettato vado alla chiusura del primo petalo qua che era chiuso vedranno due maglie alte chiusi insieme esco con un altro gettato e chiudo tutto quindi chiudo il giro in questo modo perché perché adesso io devo partire da questo punto qua per fare il prossimo giro quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più due catenelle di separazione ora vado a lavorare vedete su questi due petali centrali quindi per salto il primo vado sul secondo e faccio una maglia bassa alla chiusura del secondo petalo una maglia bassa la faccio all'interno della catenella tra un secondo il terzo petalo faccio 3 catenelle di separazione e rientro nella catenella tra il secondo il terzo petalo poi entrò alla chiusura del terzo petalo e faccio una maglia bassa ora 2 catenelle di separazione una e due carico il filo vedete vado sulla maglia bassa del giro precedente faccio una maglia alta di nuovo 2 catenelle di separazione vado sul gruppetto di petali seguente salto il primo petalo vado nella chiusura del secondo e faccio una maglia bassa una maglia bassa nella catenella seguente tra il secondo e il terzo petalo 3 catenelle 1 2 e 3 rientro nella nello spazio tra secondo e terzo petro faccio una maglia bassa una maglia bassa alla chiusura nella dentro nella chiusura del terzo petalo 2 catenelle di separazione carico il filo vado sulla maglia bassa del giro precedente faccio la maglia alta lo faccio di un'altra volta di nuovo 2 catenelle di separazione vado sul gruppetto vedete di petali seguente salto il primo petalo vado sul secondo sulla chiusura del secondo faccio una maglia bassa una maglia bassa nella catenella 3 seconde il terzo petalo 3 catenelle di separazione una due tre un'altra maglia bassa nella catenella 3 secondo il terzo petalo una maglia bassa sul terzo alla chiusura del terzo petalo 2 catenelle di separazione carico il filo maglia alta su maglia alta del giro su maglia bassa scusate del giro precedente ed ecco questo è il vedete il giro e lo lavorate così fino alla fine quello che diamo insieme allora questo giro ve lo dico adesso perché dopo magari non ho più l'occasione quando arriverete a questo giro dopo che avete lavorato tutte a tutta la sequenza di ripetizioni della dei giri dei motivi quindi la vostra lunghezza del top ideale vi fermerete a questo giro perché questo giro vedete che rifinisce senza ulteriore rifiniture il fondo del top ed è molto molto fine quindi adesso io proseguo questo giro e lo chiudiamo poi insieme ecco siamo alla fine vedete del giro faccio le due catenelle mi vado a chiedere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro allora il motivo è finito adesso si tratta di riprendere dal primo giro che era questo quindi il motivo è formato da 1 2 3 4 5 6 giri adesso vi faccio vedere a riprendere dal primo giro perché qui avevamo lavorato il primo giro su la catenella di inizio ma adesso lo andiamo lavorare sulla lavorazione e quindi vi devo far vedere inserire appunto il primo giro sull'ultimo giro del motivo guardate che è molto molto bello è molto molto bello ci spostiamo vedete qua abbiamo troviamo il primo archettino ci spostiamo all'interno e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle questo sostituisce la prima maglia alta del giro poi facciamo una catenella di separazione carico il filo rientro nello stesso arco e faccio una maglia bassa una catenella di separazione sorpasso il pippiolino vado vedete negli altri archetti sorpasso tutto praticamente il mio motivo e vado in questo in questo archetto di due catenelle carico il filo faccio una maglia alta una catenella carico il filo seconda maglia alta nell'arco una catenella di separazione carico il filo sorpasso la maglia alta vado nell'arco seguente faccio una maglia alta una catenella di separazione seconda maglia alta nell'arco di nuovo una catenella di separazione carico il filo sorpasso il motivo vado nella catena nell'archetto di due catenelle seguente faccio una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso arco una catenella di separazione carico il filo sorpasso la maglia alta vado nell'arco successivo e faccio una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso arco vedete che ho ricreato i punti v che c'erano qua nel primo giro di nuovo ve lo faccio vedere un ultima volta faccio una catenella di separazione sorpasso il mio motivo carico il filo vado nella catena nell'archetto successivo di due catenelle faccio una maglia alta una catenella e una maglia alta nello stesso arco una catenella di separazione carico il filo sorpasso la maglia alta vado nell'arco seguente e faccio una maglia alta una catenella seconda maglia alta nell'arco lavorate così tutto il giro ci vediamo alla fine sono alla fine del giro faccio una catenella e vado a chiudermi nella avevamo fatto la maglia bassa di inizio più due catenelle che nella seconda catenella mi chiedo con la mezza maglia bassa allora adesso ripetiamo il secondo giro del motivo entro vedete nel primo arco che incontriamo facciamo una maglia bassa e da qui lavoriamo le 5 catenelle 2 3 4 5 sorpasso la catenella vado nella nel punto v successivo e faccio la mia maglia bassa e 5 catenelle 4 5 sorpasso la catenella vado nel punto v e faccio la mia maglia bassa e così via tutto il giro lo avete già fatto e abbiamo fatto insieme a questo par il secondo che abbiamo lavorato 3 4 5 catenelle solpasso la catenella vado nel punto v e così via lavorato così fino alla fine del giro allora siamo alla fine del giro se vi ricordate questo giro lo avevamo chiuso facendo due catenelle carico filo entro nella prima maglia bassa del giro e faccio una maglia una maglia alta perché dobbiamo lavorare al centro della colma se voi andate se avete fatto tutto correttamente come vi ho fatto vedere vi ritroverete con questo ultimo arco che avete chiuso di questo giro in questo modo qua e vi trovate vedete al centro dell'archetto questo archetto dovrebbe coincidere perfettamente con il centro tra vedete qui c'è un motivo precedente e qui c'è l'altro e quindi questa è il centro tra questi due motivi questa maglia alta e quindi vedetevi ritrovate esattamente con l'arco nel centro perché adesso come vi ho detto prima andiamo se voi lavorate in questo modo non dovete calcolare niente automaticamente la lavorazione di verra zizza quindi io partirò adesso con il motivo vedete in centro 32 sottostanti adesso vi faccio rivedere a partire il giro ma però siamo già vedete al al terzo giro che è questo che è uguale lo stesso quindi vi faccio vedere solo la partenza perché poi potete proseguire perché ve l'ho già fatto vedere quindi qua siamo nel centro dell'arco faccio le mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carico il filo entro qui alla base dove ho chiuso la maglia alta per chiudere il giro e faccio 2 maglie alte una e due nello stesso punto di base vi ricordate avevamo fatto così anche un po difficoltoso anche prima avevamo fatto così vedete siamo 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 questo giro qua il terzo spiegato nel tutorial e quindi proseguite la lavorazione 2 catenelle di separazione 1 e 2 ad un arco successivo nella terza catenella che con la centrale faccio la maglia bassa e 3 catenelle 1 2 e 3 la seconda maglia bassa nel stesso punto nella terza catenella e 2 catenelle e poi carico il filo vado nella terza catenella dell'arco successivo e faccio le tre maglie alte bene la parte quindi del pizzo l'abbiamo lavorata vi fermerete al giro che vi ho fatto vedere prima che è il sesto quindi l'ultimo del motivo era questo qui dove c'erano di più lino dopodiché dovete spezzare il filo mi fermo subito così spezzate il filo una volta che avete raggiunto la vostra lunghezza è fermato appunto sul sesto giro del motivo che l'ultimo del motivo cosa fate andate a girare il lavoro in questo modo e andiamo riprendere il lavoro sulla catenella d'inizio quindi prendiamo il nostro il nostro filo facciamo il nodo entriamo in una catenella qualsiasi io vi consiglio sempre di entrare dove c'è l'inizio qua così dopo unite tutti i due fili e nascondete le codine io adesso ve lo faccio vedere in un'altra posizione per non confondere entro in una catenella un nodo di inizio esco e faccio 3 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta ora vado a fare un giro completo di maglie alte lavorando una maglia alta vedete su ogni catenella naturalmente controllate che qui ci sia la parte del diritto del lavoro perché continuiamo a lavorare sul diritto anche la parte sopra andremo fare un piccolo elastico che aiuterà un po a sostenere a stare insomma appoggiato bene il body al core il scusate il top al corpo quindi il primo giro lo andremo a fare facciamo una cosa veloce andremo a farlo di maglie alte semplici dopodiché su queste maglie alte semplici andremo a fare due o tre giri di punto elastico andate a fare vedete tutto il giro con queste maglie alte è veramente molto semplice da lavorare eventualmente potete anche ridurre questo giro se volete stringere un pochettino appunto sopra perché questo comunque questo giro equivale al primo giro dopo il sottoscella quindi sottoscella potete anche ridurlo facendo delle diminuzioni cosa vuol dire andando a lavorare due maglie chiusi insieme ogni tanto quindi chiudete la prima carico il filo vado nella catenella successiva chiudo metà la seconda e poi chiudo tutto insieme quando poi andremo a fare punto elastico prenderemo le due maglie insieme e questo risulterà come un punto invece di due altrimenti una cosa più semplice ancora saltate direttamente una maglia quindi qua vedere la catenella la saltate andate nella prossima ogni tanto punto saltate un punto per ridurre che forse viene meglio il punto elastico lavorato così quindi fate tutto il giro in questo modo ecco ho finito tutto il giro di maglie alte e mi chiudo adesso con una mezza maglia bassa nella terza catenella sostituiva la prima maglia alta del giro a questo punto su questo giro di maglietta andiamo a fare qualche giro io ne avevo fatti tre di e il punto elastico vi faccio vedere come si fa per chi non lo conosce è molto facile iniziamo con 3 catenelle che ci servono per alzarci carichiamo il filo punto elastico si va a lavorare alternativamente una maglia alta presa in rilievo davanti una maglia alta presa che rilievo dietro fino alla fine del giro vuol dire rilievo si va ad abbracciare vedete questo modo la maglia facciamo quella davanti una maglia alta normale ma abbracciata in un altro modo carichiamo il filo facciamo quella dietro vedete entriamo tra una maglia e l'altra e facciamo sono ingarbugliata tra maglia altre facciamo il nostro punto elastico ora tocca quella davanti quindi passiamo in questo senso davanti e poi dietro ecco lavorate così tutto il giro poi quando fate gli altri giri praticamente dovete mantenere le maglie cioè dove avete quella davanti rifatela la stessa lavorazione dovete quella dietro entrate dalla parte dietro e questo è il punto elastico che dovete lavorare per due o tre giri chiudendo dopo naturalmente tutti i giri con una mezza maglia bassa e alzandosi con 3 catenelle per iniziare il giro allora adesso io non vado a fare queste tre giri di punto elastico perché comunque ve l'ho fatto vedere lo dovete fare voi adesso io ti vado a mostrare come iniziare gli spallini allora per fare gli spallini servono adesso il marca punti per trovare proprio le distanze giuste rio per trovare distanze quando io vi ho detto l'inizio sarebbe meglio che dovete che avete dei motivi pari perché adesso quando andiamo a calcolare gli spallini dobbiamo dividere vedete il nostro top a metà io per esempio qua questo è un diversa quindi io vi consiglio di mettere il top così a metà vedete poi abbiamo 1 2 3 4 andiamo a trovare il centro esatto del top quindi il centro esatto è tra due motivi non giusto 4 diviso quindi tra due motivi centro esatto vedete 1 e 2 è qui quindi vado su col dittino e vado a trovare la maglia nel nostro caso avrete il punto elastico io non l'ho fatto quindi ora maglia alta ma è uguale vado a calcolare il mio centro da questo centro vado circa a calcolare quanto largo voglio la mia scollatura per così dire c'è tra uno spallino e l'altro e vado a contare da questo centro le stesse maglie a destra stesse maglia sinistra per calcolare uguale deve essere uguale dal centro io per esempio tengo il motivo potete anche contare questi punti v esempio io adesso salto molto vado qua dove c'è l'altro e metto il marco punti nella zona corrispondente poi vado a contare che tra un marco punto e l'altro ci sono una due tre quattro cinque maglie maglie alte e vado a contare anche dall'altra parte vi ricordo che questo è un campione un piccolo top nel vostro caso ci saranno più maglie da da contare quindi vado a contare anche dall'altra parte 1 2 3 4 5 nel sesto metto il marco poi uguale vado a fare nella parte della schiena adesso vado a farlo anche di là quindi tengo i miei quattro motivi metto il marco punti centrale che circa vedete conto 1 2 della metà questa poi conto nel mio caso le cinque maglie da una parte dall'altra 1 2 3 4 5 nella sesta metto il marco punti quindi ho adesso i segni vedete per cominciare gli spallini e per collegarmi poi dietro questo è piacere dovete provarvelo a questa misura qua che dipende dalle vostre spalle dal vostro seno da come lo volete dove volete posizionare i vostri spallini quindi a quel punto qui adesso io mi posso spostare io chiuso il giro mi sposto sulla maglia dove ho il marco punti del primo spallino comincio a costruire il primo spallino poi l'altro spezzerete il filo via riattaccherete non c'è problema quindi vado a lavorare lo spallino come segue faccio la prima faccio 4 catenelle 34 carico il filo entro nella prima catenella e più e faccio una maglia di te una maglia alta e vado avanti ora però 3 catenelle carico il filo entro nella maglia di te chiusa nella maglia alta chiusa e faccio il secondo anellino perché sono degli anni quindi vado avanti 1 2 3 carico il filo vado alla base della maglia alta chiusa sotto e faccio il mio anellino e così mi allungo fino ad arrivare alla misura che mi serve esatta quindi va approvato per calcolare giusto lo spallino perché se spallino sapete che se lo spallino è largo poi cade giù a legge tutto allora questi spallini ne potete mettere normali ne potete mettere incrociati infatti avevo optato come avete visto dalla foto per incrociare adesso ne faccio un po perché vi devo far vedere come fare ad attaccare lo spallino naturalmente se fate lo spallino normale sarà più corto questo questa lavorazione che se dovete andare ad incrociare lo spallino io come ho fatto per trovare la misura giusta ho fatto uno spellino di una certa lunghezza poi ho indossato il top a mia figlia ho incrociato adesso vi faccio vedere anche se secondo me è cioè praticamente gli ho collegato gli spallini sul sulla schiena direttamente cioè la misura l'ho trovata sul corpo cosa ho fatto una volta che ho fatto questa è corta con noi faccio vedere la mia lunghezza ho indossato il top a mia figlia poi ho preso lo spallino davanti fate conto che questa che qui ci sia la schiena già indossato ho preso lo spallino bello diritto in questo modo bello diritto l'ho fatto girare tenendolo diritto perfettamente diritto sulla schiena ho incrociato sono andata a vedere nel marca punti che corrispondeva la lunghezza e per esempio io avevo fatto troppo cosa ho fatto ho messo un marca punti dove dovevo collegare lo spallino facciamo un esempio che qui sia troppo lungo ed era questo che mi andava bene questo anellino ho messo il marca punti e ho tolto naturalmente a tutti e due questo vale anche se dovete fare uno spallino semplice così non ingorzato poi ho contato dal primo fino ad arrivare al marca punti per esempio qui ne abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 sull'ottavo sono andata a sciogliere a disfare gli altri che avevo in eccesso infilando il marca punti il mio uncinetto scusate vedete qua ci sono spero di essere chiara in eccesso qui ecco qua vedete qua l'ho messo nel senso in questo senso mi raccomando lo spallino deve essere il diritto perfetto e da qui sono entrata vedete nel marca punti che corrispondeva all'incrocio adesso posso anche toglierlo e dopo con alcune mezze maglie basse fissato lo spallino direttamente è un lavoro un po di precisione però ho collegato il mio spallino delle catenelle delle maglie basse direttamente rientrata nella catenelle anche se entrate nella catenella dopo non fa niente cioè nella maglia è entrata nella maglia bassa nella maglia alta seguente ho collegato i miei spallini in questo modo e poi naturalmente vado a fare anche l'altro bene questo lavoro è finito spero che vi sia piaciuto è semplicissimo da realizzare ed è veramente molto bello poi in bianco molto rende molto veramente molto bello bianco è un pizzo adesso ecco qui vi faccio vedere un po meglio naturalmente vedete la versione ridotta c'era l'incrocio e poi andate a fare l'altro spallino crociate dietro mi raccomando se vi è piaciuto il tutorial datemi una mano iscrivetevi cliccando su tutte sulle campanelle vi arriverà le notifiche delle mie nuove pubblicazioni se volete acquistare filato che vi è piaciuto questo filato potete rivolgere appunto per l'acquisto a questo sito online un figlio di passione un figlio di passione punto io vi ringrazio tanto per avermi seguito fino alla fine delle video un abbraccio alla prossima ciao ragazze